Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Lasantotto e avrei voluto portarvi oggi la reaction con analisi al trailer di The Boys stagione 3. Il problema è che poco fa ho iniziato a registrare la reaction e arrivato alla fine mi sono detto no, non posso mostrare questo video perché è fin troppo violento. Mi aspettavo qualcosa di un po' meno esplicito e il punto è che nonostante sia un video già caricato su YouTube non è detto che la violenza in esso presente non dia problemi al mio canale. Potrebbero avere segnalazioni, cose del genere quindi non lo posso mostrare, è veramente troppo. Però allo stesso tempo non mi andava di non parlarne perché in tantissimi mi avete chiesto di farlo e io non credevo che la cosa interessasse poi così tanto però siccome sono arrivati un sacco di messaggi e commenti in cui mi si chiedeva di parlare di questo trailer lo farò senza mostrarlo lo linko in descrizione qui sotto scusatemi ma siccome già in passato mi era capitato di ricevere delle segnalazioni che avevano fatto saltare il video per trailer troppo espliciti non me la sento di rischiare per cui capite anche la situazione. Quindi il discorso qua è che io The Boys la amo come serie la seconda stagione mi è piaciuta aveva delle ingenuità aveva delle cose che magari funzionavano di meno ma a me personalmente ha detto parecchio e questo trailer non mi è dispiaciuto affatto innanzitutto la scena di apertura con Butcher con gli occhi luminosi come se stassi per sparare dei raggi laser come fa Patriota cosa che poi farà alla fine del trailer l'ho trovata interessante perché ci dice già qualcosa in più rispetto a questa stagione ovvero il fatto che i boys potrebbero prendere in effetti finalmente il diciamo il composto V perché se non lo sapeste nei fumetti loro partono già nella storia con i poteri sostanzialmente loro sono un'agenzia al di fuori del governo ma voluta con i membri del governo che devono tenere sott'occhio i supereroi cioè teoricamente il finale della seconda stagione andava a gettare le basi per un proseguimento della storia che sia più vicino a quella dei fumetti perché nei fumetti non è esattamente come nella serie nei fumetti loro vegliano diciamo sui supereroi e li puniscono quando stanno esagerando se voi guardaste The Boys Diabolical la bellissima serie di cortometraggi antologica uscita qualche giorno fa su Amazon Prime Video notereste che c'è un episodio in cui vediamo una storia che è presa pari pari cioè una storia non raccontata nei fumetti ma presa dall'universo dei fumetti in cui i personaggi hanno l'aspetto che hanno nel fumetto scritto da Ennis ed è infatti un corto scritto proprio dallo stesso autore dell'opera fumettistica questo vi dà la dimensione di quanto sia ancora più violenta rispetto alla serie l'opera fumettistica ed è come il tono sia addirittura più esagerato perché nella serie lo sforzano un po' infatti io a tratti preferisco la serie perché nei fumetti di The Boys la violenza a un certo punto è veramente troppo gratuita nel senso che non c'è un motivo per cui testi e corpi esplodano è solo per dare al lettore quanto più sangue possibile e soprattutto il comportamento deviato dei super non è giustificato da nulla sono così perché sono supereroi e perché Gartenis detesta i supereroi fine bellissimo uno dei miei fumetti preferiti però dopo un po' anche a me pesava un po' perché non trovavo più un senso a tutta quella violenza e io sono un amante delle opere in cui la violenza viene comunque contestualizzata e giustificata perché dopo un po' diventa macelle e basta però era un esperimento interessante dovete anche pensare che nei primi anni 2000 una decostruzione del genere dei supereroi non era mai stata fatta e quindi ci sta per cui il fatto che Butcher abbia il potere laser se non è una sorta di visione ma non credo perché sono due scene diverse quelle che ci mostrano allora vuol dire che effettivamente potrebbe aver preso il composto vita tra l'altro c'è una scena in cui Butcher vomita addosso Yugi un liquido verde può essere che abbia preso qualcosa che non è il composto V ma è qualcosa di simile si può scoprire che magari non è sintetizzato qualcosa di ulteriore al composto V può anche essere perché il composto V come sapete è blu non è verde tra l'altro la musica utilizzata è bellissima e la cosa che mi piace è che non sia un trailer parlato sono immagini fuori contesto che però ci dicono tante cose molto interessanti e vediamo ancora delle scene con il patriota che è abbastanza psicopatico come al solito c'è una scena in cui mungi una mucca e sembra godere di questo che credo sia un riferimento al momento in cui beveva il latte materno di Madeleine Stilwell che insomma era anche quello un momento abbastanza assurdo poi vediamo E-Train con un nuovo costume più colorato sappiamo che E-Train nella seconda stagione veniva reintegrato nel gruppo dei Seven mentre invece The Deep l'Abisso no quindi l'Abisso cercherà ancora credo di entrare nel nel gruppo in questa stagione ma vediamo non lo so può anche darsi che prenda possesso della setta che è stata smantellata grazie a Victoria Newman che si scopriva essere la persona che faceva scoppiare la testa a vari personaggi perché Victoria Newman non è altro che Victor Newman nel fumetti detto Vic The Vip che era un bel bastardo quindi hanno reso il personaggio femminile però ha sempre lo stesso tipo di obiettivo quindi che è quello sostanzialmente di diventare presidente cosa che se non erano i fumetti succedeva ma quello è un altro discorso stare fatto che il trailer è interessante perché ci mostra c'è una scena in cui ci mostrano per bene Black Noir e lì io voglio capire cosa vogliono fare con Black Noir cioè io mi chiedo questa sarà una stagione diciamo volendo conclusiva che conclude la storia perché se ci pensate la storia principale per come era iniziata la serie è stata chiusa nella scorsa stagione nella seconda qui dovranno rimescolare un po' le carte in tavola c'è la minaccia di Victoria Newman ma vediamo un po' nel trailer si vede anche il figlio di Patriota anche lì sapevamo che era preso in custodia dal governo vediamo cosa ne faranno io ho paura che riusciranno a mettere le mani quelle della Vought sul ragazzino per cercare di renderlo un degno avversario del padre Black Noir non dico niente nei fumetti ha un ruolo ben preciso mi chiedo se in questo in questa specifica serie avrà lo stesso ruolo sono abbastanza curioso di sapere se hanno cambiato quello che è Black Noir oppure se sarà così tra l'altro io vi consiglio di guardare The Boys Diabolical perché secondo me all'interno in almeno una puntata c'è un'anticipazione di qualcosa c'è una puntata in cui vediamo Patriota agli inizi e secondo me il rapporto che è ancora puntata con Black Noir potrebbe essere parecchio interessante e anticipatore di quello che potrebbe accadere nella serie chi ha visto sa io non faccio spoiler se Black Noir fosse uguale io vi dico ne vedremo delle belle sarebbe spettacolare è anche vero che perché sia così dovrebbe succedere una certa cosa che al momento non è ancora accaduta quindi magari prendono una parte di quello che succede lì ma senza la questione delle memorie avete capito che perché dico il meno possibile in modo che anche se qualcuno sente qualcosa che non ha visto non ha letto i fumetti non può capire di cosa sto parlando questo è importante ma secondo me hanno cambiato un po' ma vediamo e poi ci mostrano quelli che secondo me sono dei flashback con Soldier Boy in italiano soldatino interpretato a Jensen Ackles che a me e correggetemi se sbaglio nei commenti sembra che sia lo stesso tizio che si toglie i tubi e che sembra rinvenire dopo un lungo sonno alla fine del trailer con i capelli e la barba lunghi perché se nei fumetti soldatino era uno dei primi supereroi che faceva una brutta fine nel passato secondo me qui lo trattano come una sorta di nuovo Captain America anche perché a un certo punto c'è questo personaggio nuovo che balla che sembra non ho capito bene se è lui se lo voglio rilanciare o cose del genere comunque credo che Patriota dovrà aver paura di nuovo che gli rubino la scena in questa serie perché dai momenti che abbiamo visto sembra che lui guardi questo nuovo personaggio in maniera poco simpatica quindi è interessante per cui questa sorta di questo soldatino sembra una sorta di Captain America a vederlo così non lo so perché ha capito che sopravvive dopo anni e si sveglia in un mondo che non è più il suo teoricamente sembra che l'abbiano trattato in questo modo io onestamente non ve lo so dire però potrebbe essere cercheremo di capire sta di fatto che a me sembra interessante esce il 3 giugno quindi non vedo l'ora francamente di capire come sarà questa stagione vediamo un Yugi che sembra abbastanza disperato vediamo una Starlight che è ancora carica di rancore e finge di voler stare nei sette ma lo sappiamo non vuole starci quindi anche qui siccome la seconda stagione sembrava aver concluso un po' la gran parte degli eventi mi chiedo come faranno a giustificarne una terza in cui ci sia ancora qualcosa da dire perché teoricamente le grandi controversie sono state risolte ma non tutte Patriota è ancora in circolazione e Butcher lo vuole ancora morto quindi penso che quello sarà uno dei leitmotiv della stagione ma staremo a vedere secondo me possono andare avanti ancora un massimo di altre due stagioni dopodiché devono iniziare a chiudere perché se no si rischia di andare veramente troppo per le lunghe hanno preso una direzione completamente diversa finora rispetto a fumetto da questo trailer avendo letto il fumetto di Ennis io sento che potrebbero tornare su binari più vicini all'opera originale il che a me non dispiacerebbe nonostante io finora le differenze sostanziali le abbia più che apprezzate perché ripeto hanno messo un po' da parte quelli che erano i maggiori difetti dell'opera fumettistica senza contare che l'opera fumettistica non dico che fosse antologica perché una trama di base ce l'aveva ma uscita dopo uscita la trama non sempre veniva portata avanti molto spesso si trattava di storie autoconclusive di avventure dei boys in cui ogni tanto c'era qualcosa che portava avanti la trama principale però molto spesso c'erano delle side story come quella di Nina di Little Nina che era vabbè il personaggio era quella russa la gangster russa minuta minuscola che non faceva altro che masturbarsi con un dildo gigante c'era una roba fuori di testa e peraltro vabbè non vi dico metti che la mettono in questa nuova stagione chissà però questo per dire che magari qui si forma la squadra com'è nei fumetti e quindi iniziamo ad avere una storia che ha come antagonista principale Victoria Newman senza dimenticarsi della vendetta che sta cercando a bucciere che sembra momentaneamente avrebbe messo la parte ma che gli coverà sotto ancora per molto quindi staremo a vedere ma a me il trailer è piaciuto tantissimo vi chiedo cosa ne pensate voi fatevi un conto qui sotto perché sono molto curioso vi ringrazio mi sentite tanto ma tanto bene e noi ci vediamo al prossimo movieblog ciao a tutti